Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Pescara dove a tenere banco il caso menze scolastiche. In alcune scuole ci sono stati problemi con le menze, una lunga serie di ricoveri di bambini che da sabato sera hanno presentato malori con sintomi da intossicazione alimentare. Sono state una ottantina le persone arrivate in totale nel pronto soccorso, tra esse anche sei insegnanti. Tutti i ricoverati presentano sintomi come febbre, vomito, diarrea e disidratazione, ma nessuno fortunatamente è versa in gravi condizioni. Nel frattempo la procura di Pescara con il PM Anna Benigni ha aperto un fascicolo contro i gnoti sulla vicenda. L'ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Vediamo insieme l'intervista realizzata da Paolo Lenzetti con il sindaco di Pescara, Alessandrini. L'anno scolastico volge al termine e quest'anno la festa della Repubblica, cioè sabato 2 giugno, ci ha portato questa emergenza. Cioè un numero crescente di bambini che sono stati sottoposti a visita presso il pronto soccorso e presso il locale reparto di pediatria. Complessivamente una ventina sono stati ricoverati e un centinaio sono stati fatti tornare a casa. Questo perché? Perché si sta indagando se vi può essere una connessione fra ciò che è stato mangiato a scuola, nelle menze scolastiche, fra giovedì e venerdì, e appunto questi effetti sulla salute. Essenzialmente sono coinvolti i bimbi di un plesso scolastico, diciamo del comprensivo 5, ma ci sono sporadici casi trasversalmente sparsi per tutte le scuole della città. Noi come amministrazione abbiamo immediatamente disposto già ieri nella giornale di domenica con ordinanza la sospensione del servizio di rifezione scolastica, che significa 4 giorni dalla fine dell'anno scolastico sostanzialmente che non si mangia più a scuola di qui alla fine dell'anno. Il discorso diverso naturalmente andrà fatto per i nidi in cui il servizio prosegue fino a fine mese. Noi siamo in attesa, in omaggio a un principio che è sempre bene tenere a mente per chi ha pubblica responsabilità, cioè conoscere per deliberare, dei risultati che ci verranno resi dall'ASRA nel pomeriggio di oggi. I risultati sono sulle feci dintorni dei bimbi ricoverati, appunto per capire di che tipologia di virus si tratta, se di virus naturalmente si tratta. Non è confermato che si tratti di salmonella? No, questo è un'ipotesi al vaglio perché è legato ai cibi e segnatamente le uova ingeriti, giovedì in particolare. Però è chiaro che le uova non sono state mangiate crude come la mia nonna per esempio mi faceva mangiare, ma sono state mangiate cotte. Proprio per questo io non mi avventuro in giudizi prognostici su una materia che peraltro non è la mia, ma penso che appunto oggi pomeriggio sapremo il da farsi. Qualunque sia l'esito noi adotteremo in ogni caso di concerto con il mondo della scuola ogni misura idonea e abbiamo anche modo di farlo per il meglio, poiché come dicevo poc'anzi l'anno scolastico volge al termine. Andiamo avanti adesso con la cronaca che arriva da vasto ripresa con il telefonino nei suoi primi approcci sessuali minacciata, ricattata e poi abusata. La storia di una ragazza di 16 anni del Vastese che dopo mesi di sopprusi ha trovato la forza di raccontare e denunciare quanto stava vivendo. Questa mattina per due minori vastesi, state vedendo le immagini della conferenza stampa tenuta dai carabinieri proprio nella mattinata, conferenza stampa le cui immagini sono state girate dal sito zona locale. Dicevo per due minori vastesi sono scattati gli arresti, i due sono accusati di aver costretto la ragazza a compiere atti sessuali per evitare che venissero diffuse sul web le foto e i video. L'incubo è iniziato circa due anni fa con l'avvio di una relazione sentimentale che non si è rivelata tale, il presunto fidanzato l'ha filmata con il telefonino in atteggiamenti OSEE, successivamente è stata costretta ad avere rapporti sessuali sotto la minaccia di pubblicazione dei video su internet, le richieste si sono intensificate coinvolgendo anche altri coetanee che hanno abusato di lei in gruppo. A questo punto la ragazza ha deciso di denunciare ai carabinieri, sono partite le indagini e si è arrivati ad un incontro a cui hanno partecipato anche i carabinieri che hanno sequestrato smartphone e tablet. I due ragazzi sono stati arrestati e tradotti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo di Roma e dovranno rispondere di riduzioni in schiavitù, pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, violenza privata e atti persecutori. Adesso andiamo ad ascoltare proprio un estratto della conferenza stampa dei carabinieri di Vasto. Il GIP ha accorto la richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Minorenia e Latvita, il dottor Polella, che ha condiviso le risultanze investigative che abbiamo fornito a seguito della denuncia asporta da una ragazzina di quasi 16 anni vastese, che all'inizio del mese di maggio ha finalmente liberata di un fardello pesantissimo che erano delle violenze che le subiva da quasi due anni, da parte appunto dei due ragazzini arrestati questa mattina e che l'hanno nel tempo portata in uno stato di sudditanza psicologica importante. La ragazzina si è rivolta a noi, si è consigliata con un suo coetaneo che nonostante la giovanità ha avuto la saggezza comunque di indurla a denunciare, a rivolgersi alle forze dell'ordine per porre un freno e una fine alla condizione che stava subendo. Per cui è stata accolta qui da noi, è in Italia della stazione di Vasto, è stata esclusa, è stata effettuata una audizione protetta come obbligo da parte nostra nel caso di ascolto di Minori. Andiamo avanti con la cronaca, sarà sottoposto a perizia psichiatrica Roberto Mucciante, 51 anni, arrestato nell'aprile scorso a Pescara dopo aver ucciso con 38 coltellate il vicino di casa Salvatore Russo, muratore di 58 anni. Il GIP Antonella Di Carlo ha fissato al prossimo 12 luglio l'incidente probatorio nell'ambito del quale sarà affidato l'incarico ad un perito. La richiesta era stata avanzata nei giorni scorsi dal pubblico ministero Valentina D'Agostino, titolare dell'indagine, a seguito dell'istanza presentata il 17 maggio scorso dai due difensori di Mucciante, gli avvocati Gianluigi Amoroso e Clara Di Sipio, nella quale si sollecitava la richiesta di incidente probatorio. L'omicidio è avvenuto il 25 di aprile in un garage del palazzo nel quale risiedevano sia Mucciante che Russo, all'angolo tra via del circuito e via Pian delle Mele, quasi al confine con Villa Raspa. Il PM, nella sua richiesta, chiede di accertare tramite perizia la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, la pericolosità sociale, la capacità di partecipare coscientemente al procedimento penale da parte di Mucciante. I familiari della vittima sono invece assistiti dall'avvocato Andrea Cocchini. Adesso ci occupiamo di 118, dunque di Sanità, presentato questa mattina a Pescara un protocollo d'intesa fra Regione Asl e Saga per la localizzazione del sedime dell'aeroporto d'Abruzzo, in cui installare la centrale operativa del 118, centrale unica per Chieti e Pescara. Sentiamo. Finalmente siamo arrivati al dunque, firmiamo un protocollo d'intesa, le due Asle stanno lavorando insieme alla Saga, non per individuare l'area perché quella ovviamente già è individuata, ma operativamente per dire con quali tempi, con quali modalità, con quali investimenti il tutto sarà realizzato nelle prossime settimane. È un passo in avanti molto importante perché questo consente, per quanto riguarda l'integrazione della funzionalità delle prestazioni sanitarie di urgenza, una perfetta integrazione tra Chieti e Pescara e quindi tra i cosiddetti percorsi salva vita per le persone. Verrà così ottimizzato il primo soccorso, il pronto soccorso nell'area metropolitana? Non solo nell'area metropolitana ma evidentemente nelle province di Pescara e di Chieti, quindi delle due aziende di riferimento, in quanto questa è la novità. La centrale unica del 118 per l'area Pescara-Chieti consisterà nella possibilità dei cittadini di avere un percorso in caso di emergenza cosiddetto preferenziale, ovvero senza andare prima in un pronto soccorso puoi essere nuovamente trasferito ma c'è un vero e proprio protocollo che si prende in carico il paziente in emergenza e lo porta laddove serve. Questo poi è il punto. Aeroporto d'Abruzzo, questa volta protagonista non per nuovi voli ma per questa centrale unica del 118, un progetto molto importante. Sì, è un progetto di cui il regista è la regione Abruzzo, riguarda le ASL di Chieti e Pescara e quindi l'area urbana più importante della regione, quella più popolata e dal punto di vista logistico e dal punto di vista della sicurezza aerea e dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, dal punto di vista sanitario è veramente molto rilevante perché abbiamo una postazione a poche centinaia di metri dal cuore dell'aeroporto nel quartiere degli Angara sulla Tiburtina che ha la tangenziale est-ovest e la tangenziale nord-sud a due passi ha il polo degli elicotteri a qualche centinaio di metri e ha una forza operativa di intervento una logistica veramente straordinaria, forse unica nel centro-sud. Ancora sanità, bilanci delle ASL, tavolo di monitoraggio e project financing una disastrosa e preoccupante eredità che D'Alfonso e Polucci lasciano agli abruzzesi questo quanto detto stamattina in una denuncia dai consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febo e Lorenzo Sospiri. Sentiamo. Bilanci ASL, project financing, perché il centrodestra giudica disastrosa la gestione della sanità in Abruzzo Febo? Guardi, andando lo giudico nei cittadini e credo che su questo ci sia poco da dire Bilanci ASL sono una disdetta, chiudono con 39 milioni di perdita su cui peraltro io ho molte cose da dire, molte cose da verificare perché secondo me la perda è molto ma molto superiore ce li hanno appena consegnati, abbiamo visto dei dati che non ci convincono, disastrosa perché basta leggere il verbale del tavolo di monitoraggio che ci viene notoriamente consegnato con molto ritardo dopo le mie ripetute sollecitazioni, pensate che sulla programmazione 2016-2018 su 217 OPSOT così come vengono chiamati dal Ministero non è stato realizzato uno 114, cioè il 53% sono in ritardo, gli altri 103 sono praticamente inesistenti quindi veramente credo che ci sia da essere allarmati a questo aggiungiamo che nel frattempo sui territori qualche giorno prima delle elezioni, del 4 marzo si diceva che i 4 ospedali, 5 nuovi ospedali erano oramai cosa fatta che mancava solamente una firma, passate le elezioni questa firma non c'è stata non si parla di nulla dell'ospedale di Popoli, non si parla dell'ospedale di area disagiata di Atese e potrei continuare con il punto nascita di Sulmona invece si fa una delibera che non si capisce a che provi viene fatta per quanto riguarda il project financing dell'ospedale di Chieti dove si annunciano 30 milioni ma non si capisce dove vengono presi mancano le firme di tutti i dirigenti del bilancio sia di quello della regione sia quello del GSA ma la cosa allucinante è che si dice che l'Alz di Chieti si dovrà far carico di un canone annuo di altri 16 milioni di euro con una perdita acclarata oramai di 20 milioni io credo che veramente è ora di finirla con questi annunci è ora di dare le dimissioni è ora di cambiare ritmo a questa regione e soprattutto di dare delle risposte ai nostri concittadini adesso andiamo al festival della cultura di Tortoreto dove è intervenuto ieri il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio è stata l'opportunità per analizzare la nascita del nuovo governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega e lo stato dei partiti che rappresenteranno l'opposizione in Parlamento PD e Forza Italia su tutti vediamo il servizio per la prima volta dal 94 abbiamo un governo senza inquisiti e condannati poi magari ritorna il fascismo ma intanto questo va detto se ci fossero stati degli inquisiti e dei condannati cosa avremmo fatto? l'avremmo scritto o non l'avremmo scritto? certo che l'avremmo scritto e se crede che in questo governo che seppur costruito tuttavia è fortemente rappresentativo della maggioranza del nord e del sud diciamo che non ci sia una reale e concreta opposizione a questo governo? quello è un problema noi siamo un paese abituato a non avere opposizione prima che nascessero i 5 Stelle centro-destra e centro-sinistra diciamo che facevano più o meno le stesse cose insieme vinceva sempre il banco quindi l'opposizione in Italia l'hanno riesumata i 5 Stelle e poi Salvini e Lameloni dopodiché nelle democrazie per un buon funzionamento delle istituzioni c'è bisogno tanto di una buona maggioranza e di un governo forte quanto di un'opposizione forte in questo momento l'opposizione è formata da due peli superflui come Berlusconi che ormai è in deriva e il PD di cui non si hanno notizie se non che scende in piazza in difesa della Costituzione che due anni fa voleva devastare è in difesa del lavoro che ha distrutto con il Jobs Act l'abolizione dell'articolo 18 quindi è un partito che deve completamente ripensare se stesso e probabilmente trovare qualche leader meno specializzato nelle sconfitte di quelli che ha avuto negli ultimi tempi perché è interesse di tutti che ci sia un centro-sinistra forte che faccia opposizione crede che lo strumento contrattuale che nel diritto privato è per antonomasia lo strumento per governare gli interessi dei soggetti privati sia in grado e sia adatto soprattutto a guidare le sorti di un paese ma sai lo strumento del contratto lo usano coalizioni non solo in Italia questa volta ma l'hanno usato in Germania la CDU della Merkel i socialdemocratici l'hanno usato in tanti altri paesi soltanto in Italia siamo molto provinciali e quindi ci meravigliamo il contratto è per segnalare che le alleanze si fanno con i partner omogenei per esempio due partiti di centro-sinistra quando ci sono un partito post-ideologico tendenzialmente con valori di centro-sinistra come i 5 Stelle e un partito di destra come la Lega che si mettono d'accordo su dei punti il contratto diventa una garanzia è un vincolo per entrambi e quindi secondo me può essere un buono strumento purché poi ovviamente i due contraenti lo realizzino ma già oggi si è visto che è utile perché un ministro ha detto le sue opinioni che io non condivido sul concetto di famiglia che secondo lui sarebbe solo ed esclusivamente quella tra il marito e la moglie che trascurando tutti gli altri tipi di unioni e immediatamente il suo leader gli ha detto quelle sono le tue idee ma non stanno nel contratto quindi voglio dire avere questo contratto se viene trattato seriamente dai due leader è anche un ottimo antidoto contro la tendenza alla cazzata che hanno i nostri politici ai quali bisognerebbe levare i social oltre alle interviste Cambiamo argomento stato di abbandono e degrado nella zona di Via Nora nel quartiere San Donato di Pescara dove sorgono le case di edilizia popolare la denuncia è arrivata dai residenti e dal consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara Massimiliano Pignoli vediamo Degrado nel quartiere di Via Nora a Pescara siamo nella zona anche delle case Ater di edilizia popolare consigliere Pignoli ci sono anche qui dei residenti che lamentano una situazione difficile che dura ormai da tempo C'è un appartamento abbandonato ormai dall'Ater dove esistono praticamente vari escrementi di piccione le persone sono costrette a tenere le serrande chiuse a danno di come dire anche di questioni relative igienico-sanitarie Qual è adesso il light motive? Il light motive è che dobbiamo intervenire e come si interviene? Scriverò al nuovo presidente del consiglio di amministrazione dell'Ater e chiederemo di essere ricevuti insieme a una delegazione di Via Nora e faremo vedere le condizioni erba non tagliata e poi c'è anche la parte di attiva come potete vedere qui dalle immagini che c'è uno stadio di abbandono foglie secche e quant'altro ma tombini otturati per cui c'è bisogno di un intervento importante per l'intera zona perché evidentemente si vive una situazione di grave difficoltà dal punto di vista abitativo Sono tante le famiglie che vivono in queste abitazioni? Sì, sono tante soprattutto anche famiglie giovani con bambini sono stati costretti a mettere anche quelle famose zanzariere per evitare appunto le zanzare mi diceva un cittadino che la scorsa settimana addirittura un ratto è salito dentro la sua macchina quindi qui si vive da terzo mondo Ho iniziato questo tour iniziando da Via Rigopiano Via Nora poi passeremo in Via Caduti per Servizio la zona di Via Tavo quindi Via Lago di Borgiano Via Lago di Capestrano la Marina Sud la Marina Nord Zanni voglio vedere un po' come è la situazione delle case popolari fino adesso è un disastro lo posso testimoniare con i miei occhi e con gli occhi dei cittadini che me lo fanno notare ora si deve iniziare pian piano con le piccole risorse che ha l'altra però a fare anche dei piccoli interventi i carabinieri forestali di Teramo insieme all'ufficio marittimo di Giulianova in collaborazione con la Ruzzorete hanno dichiarato guerra al fenomeno degli allacci e degli scarichi abusivi che inquinano il mare e i fiumi solo ad Alba Adriatica sono stati già individuati e diffidati dieci fabbricati con situazioni illegittime vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli un'iniziativa che negli ultimi tre anni ha interessato in particolare il fiume Vibrata e i comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro e ha consentito di mettere a frutto nuove metodologie operative per contrastare il fenomeno degli allacci abusivi che spesso mettono a rischio di malfunzionamento gli impianti di depurazione la stessa qualità delle acque e di balneazione la depurazione ha sempre funzionato abbastanza bene ciò su cui ci siamo concentrati negli ultimi anni con la collaborazione dei carabinieri forestali e della Capitania di Porto di Giulianova è monitorare i canali di acque bianche e fare in modo di verificare che non ci fossero scarichi abusivi e purtroppo invece ne abbiamo trovati e non ci fossero situazioni nelle quali invece i canali di acque bianche si collegano con la rete destinata ai reflui fognari perché questa commistione in caso di precipitazioni ingenti può generare problemi piuttosto rilevanti l'inquinamento di terra viene portato al mare voi dovete controllare certo noi siamo tenuti è uno dei nostri compiti fondamentali quello del corpo delle Capitanerie di Portoguardia Costiera quello di salvaguardare l'ambiente marino e costiero com'è la nostra costa? Secondo i parametri dello scorso anno abbiamo migliorato di molto diciamo la salubrità delle nostre acque sono attività che continuano costantemente soprattutto nel corso dell'estate speriamo di mantenere gli stessi parametri nel comune di Alba Adriatica per esempio sono stati individuati circa dieci allacci irregolari che causavano l'immissione dei reflui fognari direttamente nei canali di raccolta delle acque meteoriche che a loro volta li veicolavano direttamente verso il torrente vibrata e quindi al mare Ruzzoreti ha dunque emesso apposite diffide e il comune di Alba provveduto a sospendere le agibilità dei rispettivi fabbricati procedura analoga è stata attuata anche nel comune di Martinsicuro qual è l'identikit dell'allacciatore illegittimo l'identikit dell'allacciatore illegittimo è il innanzitutto dobbiamo smaterializzare perché dobbiamo fare l'allaccio oramai è diventato il palazzo quindi è diventato il palazzo che è costruito molto velocemente quindi è stato costruito a risparmio e che praticamente ha voluto capitalizzare al massimo le proprie le proprie i propri soldi quindi ha voluto fare un'attività edilizia ad alto reddito e questo ha prodotto che ha dovuto risparmiare su alcune cose uno dei fatti era come allacciarsi alle acque nere magari ha risparmiato posso di fare un collegamento di 200 metri l'ha fatto di 20 metri e quindi ha risparmiato su questi aspetti qua restiamo a terramo un concerto in largo Madonna delle Grazie concluderà venerdì 8 giugno la campagna elettorale del candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle Cristiano Rocchetti nel corso della serata si esibiranno band locali mentre l'ospite d'onore sarà Filippo Graziani che canterà le indimenticabili canzoni di suo papà Ivan vediamo il servizio chiusura della campagna elettorale stile musicale per il Movimento 5 Stelle a Teramo il candidato sindaco Cristiano Rocchetti e i candidati della lista pentastellata si ritroveranno in largo Madonna delle Grazie venerdì 8 giugno a partire dalle ore 19.30 per il classico comizio finale e per ascoltare buona musica si esibiranno infatti alcune bande teramane per concludere con le melodie di Ivan Graziani cantate dal figlio Filippo si conclude la vostra campagna elettorale proprio con un inno alla terramanità si vogliamo dare un segno tangibile della nostra capacità della nostra capacità di dare le risposte a questa città e per questo abbiamo pensato di chiudere la campagna elettorale con un evento a Piazza Larga Madonna delle Grazie che possa portare veramente alla terramanità abbiamo un inizio alle 19.30 con due band locali due band terramane che hanno voglia coraggio di dimostrarsi alla città e poi a seguire Filippo Graziani non dobbiamo dire chi è non dobbiamo dire null'altro che la gioia e l'orgoglio di avere lui in questa piazza nella piazza nei giardini intitolato a suo padre quale sarà il suo messaggio ai terramani? il messaggio che vogliamo dare alla città è che ci siamo che ci siamo veramente con una forza che solo noi in questo momento possiamo dimostrare è il segno che diamo concretezza alle parole all'aquila ha sollevato polemiche l'indiscrezione secondo cui la polizia municipale avrebbe combinato multe ai commercianti che servono cibi e bevande all'esterno dei locali il sindaco Pierluigi Biondi è intervenuto sulla vicenda smettendo le voci sentiamo il servizio di Germana i commercianti i commercianti aquilani che hanno tavolini esterni possono somministrare cibo e bevande senza problemi in seguito all'allarme alzatosi per la notizia serpeggiate in città sulla diffida da parte della polizia municipale ai commercianti per la somministrazione di cibo e bevande all'esterno in virtù dell'ordinanza sull'esposizione esterna di frutta e verdura negano categoricamente sia il sindaco Biondi sia l'assessore al commercio Piccinini la fondatezza della notizia non c'è alcuna diffida da parte della polizia municipale ai commercianti ci sono pressappochismo e disinformazione alla base di una notizia non notizia dice Biondi che metterebbe in relazione un'ordinanza sul divieto dell'esposizione all'esterno di frutta e ortaggi di cui rivendico la giustezza e la legittimità e il sacrosanto diritto di bar pub e ristoranti di sfruttare la stagione estiva per l'attività all'aperto questa città sottolinea il sindaco di tutto ha bisogno meno che di un sentito dire che non corrisponde in alcun modo alla realtà e che getta il panico tra coloro che faticosamente ogni giorno cercano di risollevare l'economia locale con grandi sforzi ed incomiabili sacrifici adesso apriamo la pagina dello sport ha guidato il Pescara per 5 giornate dopo l'esonero di Zeman raccogliendo un solo punto il tecnico della primavera biancazzurra Massimo Epifani torna sulla parentesi vissuta nel mese di marzo una esperienza non positiva ma che sarà molto utile per il futuro ascoltiamolo si chiusa con la salvezza la stagione del Pescara una stagione travagliata che ha visto tra i protagonisti anche Massimo Epifani con quelle 5 partite comunque per te è stata un'esperienza importante Massimo ma per questo ne sarò sempre onorato e sono onorato di quello che mi è capitato perché se resti sulla pagina del Pescara per un pescarese penso che sia la cosa più bella che ti può capitare detto questo l'importante è raggiungere l'obiettivo della salvezza che è la cosa più importante per il patrimonio di Pescara per quanto riguarda l'esperienza mia personale per me è stata una grandissima esperienza nonostante i risultati negativi nella mia gestione però nel sud togliendo la partita con il Parma le altre si poteva raccogliere qualcosa di più sul campo purtroppo è andata male e porto dentro nel mio bagaglio di esperienza anche questa esperienza che rimarrà una grande esperienza ambiente fredda tornando indietro accetteresti nuovamente la panchina del Pescara in quella situazione ma purtroppo questa è la domanda che mi faccio anch'io l'avrei accettata ma io penso che al posto di Massimo Vimane avrebbero accettato tutti perché allenare il Pescara per me la assomiglio molto alla vita quindi la situazione era difficile lo sapevo però ripeto con un pizzico di fortuna in più perché bastava quello potevamo portare a casa dei punti importanti dove mi potevano permettere di finire questo campionato Rammarico quella partita di Avellino che stavate vincendo fino a 4 minuti dalla fine fosse arrivata quella vittoria probabilmente sarebbe cambiata anche un po' la storia del campionato del Pescara e anche la tua ma Avellino abbiamo fatto una partita importante e la dobbiamo vincere purtroppo è andata come è andata ma il rammarico più grande è stata la partita con l'Empoli perché secondo me abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato una squadra che creava 12-13 palle con la partita noi le avevamo limitate secondo me facendo una grande partita e poi ricordate tutti il rigore la palla con il di Bru con il palo di Gullibarini e sono tutti episodi negativi che da quando sono in questo mondo non mi erano mai capitati però capita anche questo l'importante è prendere tutto tutta l'esperienza anche negativa e portarlo nel bagaglio di esperienza per il futuro per non farlo ricapitare ancora Ore calde in casa del Teramo per la scelta del nuovo allenatore nel frattempo tre grandi ex biancorossi sperano che il diavolo possa risollevarsi presto dopo due stagioni molto in sordina sentiamo il servizio di Ania Cantagalli Cosa deve fare il Teramo per mettersi alle spalle definitivamente le ultime due annate un po' complicate ma guarda qui tocca un tasto un po' dolente quindi preferisco cioè io vorrei il Teramo che stesse in Serie A quindi non per me il Teramo è il Teramo non lo so bisognerebbe fare tante cose io un'idea mia ce l'ho però preferisco tenerla per me perché perché ci vogliono diverse situazioni ci vogliono uomini uomini seri uomini importanti ci vuole gente competente quindi loro lo sanno sicuramente lo sapranno in società però come la vedo io ci vuole gente gente importante gente che ama il Teramo veramente tu torneresti a Teramo? ma io tornerai però penso che non sarei gradito penso non dai tifosi tifosi si tutta la vita però penso non sarei non so una figura vista bene perché troppo amore che hanno i tifosi per me viene 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 messo in cattiva luce nella società nei giocatori poi c'è sempre sempre i paragoni infatti nella contestazione i tifosi ci sono dovuti presenti sempre da sto ragazzo che è all'ottavo faccio sempre tutto quindi passo come una persona che non sono io e io non sono stato mai né un leccaculo né niente quindi preferisco stare a casa cosa aveva il Teramo di Giuseppe che magari questo Teramo adesso non ha poi ci vogliono tre trasmissioni quindi andiamo un po' lunghi ma non aveva niente aveva il lavoro che però poi adesso sembra riduttivo nei confronti perché ed è effettivamente sbagliato anche metterla così perché io so che anche chi c'è stato dopo di me ha lavorato e ha provato a lavorare io posso dire cosa aveva quel Teramo che è stato qualcosa di magico però però anche lì parleremo solo dell'ultimo anno ma così non è perché perché comunque si è vinto sempre si è vinto sempre vuol dire vuol dire aver lavorato veramente bene soprattutto sempre costruendo qualcosa anno dopo anno per quel che riguardava il futuro secondo me alla fine il trucco è proprio quello non è solo vincere quando si vince e uno si rende conto che sta costruendo anche per il futuro qualcosa di buono lì si riesce a fare l'opera d'arte nel bene e nel male perché poi c'è stato anche del male purtroppo ma soprattutto nel bene questo è successo in quei quattro anni da ex capitano giocatore direttore generale del Teramo ovviamente ti devo chiedere un parere se le ultime due stagioni della Teramo Calcio molto difficili cosa dovrebbe fare adesso il Teramo secondo te per mettersi definitivamente alle spalle queste due annate complicate sono state due annate sicuramente difficili inutile negarlo perché i risultati dicono questo ci sono dei problemi quando avvengono queste cose perché logicamente quando si sbaglia per due o tre anni vuol dire che in ogni caso qualcosa è da rifare sicuramente io dico sempre che alla base di qualsiasi risultato sportivo c'è sempre una componente societaria importante quindi a mio modo di vedere il presidente Campitelli dovrà essere bravo nel ricostruire quello che riguarda un organigramma societario mettendo delle persone che lui reputa idonee e dandogli le responsabilità che meritano perché secondo me se ci sono dei ruoli perché ci sono le responsabilità e poi voglio dire secondo me il Teramo potrà fare sempre bene perché penso che anche il prossimo anno se le cose vengono fatte in un certo modo il Teramo si possa ritagliare sempre un spazio importante nel panorama Lega Pro Quadrangolare di solidarietà sabato scorso a Tagliacozzo dove sono scese in campo vecchie glorie di Roma e Lazio per sostenere l'attività della casa famiglia dopo di noi gestita dall'Anfas di Avezzano vediamo il servizio di Andrea Costantini un sabato all'insegna della solidarietà quello che si è vissuto questo weekend allo stadio Leo Attili di Tagliacozzo dove sono scese in campo le vecchie glorie di Roma e Lazio una giornata di beneficenza con l'incasso devoluto all'attività della casa famiglia dopo di noi l'evento è stato organizzato dall'ex allenatore delle giovanili della Roma Mauro Bencivenga ed ha visto in campo tra gli altri Damiano Tommasi Simone Perrotta David Di Michele Gaetano D'Agostino alla giornata hanno partecipato anche le squadre del Tagliacozzo e del Plus Ultra Trasacco sono state proprio le vecchie glorie della Roma ad aggiudicarsi il torneo ma questo conta poco l'aspetto più importante è aver dato una grossa mano a chi si occupa di sociale e dopo la partita brindisi nella sede locale dell'Anfas che gestisce l'attività della casa famiglia sì sicuramente la giornata è stupenda il campo anche quindi speriamo di divertirci anche noi anche se l'età ormai avanza la prima volta a Tagliacozzo? no ero già venuto alla casa famiglia a l'Anfas e sicuramente è stato un piacere anche tornare per salutare il nostro amico Gerardo è un binomio sempre vincente ecco calcio e solidarietà vanno di pari passo nel senso che il calcio lo sport in generale è sempre portatice di messaggi positivi giornate come queste fanno bene a noi calciatore e ex calciatore ma credo a tutto il movimento sociale ma anche alla gente che è venuta a vedere la partita per noi ex calciatori sono occasioni per rivederci per ricordare momenti in cui eravamo insieme nelle stesse squadre o ricordare degli episodi quando giocavamo contro è sempre momenti di grande di grande felicità e poter dare una mano a qualcuno che ne ha bisogno va al di là di questo di questo discorso io voglio ringraziare di cuore il mister Mauro Benjivenga perché veramente è stato lui quello che ci ha travolti e sono contenta perché abbiamo la nostra mascotte che è Gerardo e tutto grazie a lui grazie a Gerardo i giocatori hanno deciso di festeggiare con lui questo compleanno lo conoscono da tanto tempo diciamo che lui era la mascotte dell'assist di Roma è tutto per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 20 con l'appello del candidato alla trasmissione dedicata alle elezioni amministrative nella città di Teramo e poi alle 21 a seguire ci sarà replay come sempre la trasmissione condotta da Enrico Rocchi ospite tra gli altri il DS del Pescara Luca Leone davvero tutto grazie per l'attenzione e buona giornata grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione